Ciao amici miei bonsai, oggi vi mostrerò una planta che è molto popolare con i collettori bonsai, specialmente per chi vive in Europa. Sto parlando delle olive wilde, chiamate anche Lea europea sylvestris. Come tutti sappiamo, è una planta che ha sviluppato nel Mediterraneo per molti millenni e che ci ha permesso di ottenere l'oliva coltivato, da cui l'olio è prodotto. Il periodo di transizione evoluzione, da olive wilde a olive domestiche, è non conosco. È ipotesizzato che le specie domestiche sono derivate dall'hybridizzazione tra due specie diverse, presenti nell'area dell'esterno del Mediterraneo. Uno, magari identifibili con l'olio africano, avrebbe trasferito il carattere dell'olio elongato. L'altro, non conosco, avrebbe aggiunto le caratteristiche della frutta pulpa e l'olio. Le nuove specie, perfettamente acclimatizzate nel Mediterraneo del Mediterraneo, avrebbero appena spiegato all'Egypte, e quindi anche alla Grecia. I greci, loro, usavano le olive wilde per fare l'olive garlande per i vincitori degli Olimpi. erano molte differenze con l'olio cultivato. In natura, l'olio wilde ha una forma bushy e torni, e non elongate le branche. Le letture sono piccoli, come i frutti. Per il mondo del bonsai, è una planta molto ampia, soprattutto in Europa, tra gli entusiasti del bonsai. Per il suo potenziale enorme come bonsai, e grazie alla sua lunghezza millenniale, non si può perdere tra gli collettori dei bonsai. Sono fortunato di avere in mio giardino diversi frutti di olive wilde, fatti in natura, perché nella mia zona è facile trovare. Questa è una delle plantate che ho avuto. Come potete vedere, ho letto la planta crescere freely, per permettere di farlo bene. Altrimenti la planta è piccola, il tronco ha le caratteristiche di una planta wilde, chiamata Yamadori in giapponese. Quando è prunato, sarà necessario di scortare le branche e anche il tronco. Come le pinte, le bambine, le bambine, le bambine. È, per esempio, necessario di scortare in una forma che sempre mantenere alcune le bambine sulle bambine, per evitare di sfruttare. Ho spero che questo video fosse utile per voi. Il video finisce qui. Ascrivetevi al mio canale YouTube, partite il mio canale con i miei amici e like the video to support me. Thank you. Bye bye!